W49 il calendario in cicli di tempo come anni, mesi e giorni è applicabile ai robot in futuro. W50 la soluzione è già predestinata al sorgere del problema. W51 la conoscenza per la creazione di robot è data all'essere umano dalla natura perché in futuro saremo estinti o noiosi. W52 è l'anima gemella o i compagni per i robot in futuro. W53 il futuro è una storia diretta da un essere umano vivo nel presente e il presente è una storia diretta da un essere umano morto nel passato. W54 la vita è un percorso personale. Se ognuno di noi è dentro dei cicli. W55 la costruzione è un atto di distruzione per le specie che risiedono sotto terra. W56 la creatività è il risultato di domande, immaginazione o tempi. W57 la preghiera umana è ascoltata dalle persone, da Dio o dalla natura. W58 la natura delle emozioni è costruita dal tempo, dalla coscienza o dalle persone. W59 è meglio per la mente apprezzare tutto con lo stesso o diverso interesse con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. W60 i sentimenti verranno declassati o aggiornati per i robot in futuro. W61 la lingua o la storia sono il fattore chiave che unisce la tribù. W62 è meglio evitare amici e nemici prima che diventino noiosi o fastidiosi. W63 l'incertezza o la certezza sono la verità. Quindi la forma è il vuoto per i robot del futuro. W64 il tempo è reversibile o in avanti per la coscienza. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.